Non ho mai parlato prima d'ora. Ero seduta sul letto e stavo facendo un disegno. Aspetta un momento, quindi tu... quindi disegni? Ma senti, ma non stavamo registrando? Sì, hai ragione. Scusami, continua. Stavo disegnando un piccione. Ed un tratto... ho sentito un rumore provenire dalla finestra. Era il piccione che avevo disegnato. Stava nel suo nido. Non ne vedevo uno dall'inizio della guerra. Allora mi è venuta in mente una storia che raccontava mio padre. Diceva che i piccioni ci proteggono. Lo hanno fatto anche durante l'ultimo bombardamento. Così ho capito che troppi muri non servono. Perché siamo costantemente protetti. Quel piccione... veglia su di noi. Ma dov'è il nido? Che nido? Il nido. Quello del tuo piccione. Non esiste. Quindi hai mentito a me e agli ascoltatori? Non mentito, inventato. La mia vita è troppo noiosa per raccontarla. È noiosa quando c'è la guerra. Ogni giorno è lo stesso mortorio. Allora. Grazie.